Un quartiere da rilanciare con l'aiuto possibilmente del comune di Arezzo. I commercianti di Saione sono tornati a riunirsi per parlare dei problemi e delle iniziative che potrebbero essere messe in atto per aiutare la zona a tornare agli antichi splendori. Tra le problematiche sollevate nel corso della riunione, quella della scarsa illuminazione in alcuni punti per la quale si richiede una maggiore attenzione da parte del comune, quella della sporcizia con la polizia che lascia desiderare, la presenza di molte buche e alcuni aspetti del traffico che non agevolerebbero l'eventuale sosta e quindi produce mancati introiti per i commercianti. Nell'incontro si è parlato anche delle possibili iniziative che potrebbero aiutare a portare gente nel quartiere a rilanciarlo attraverso la riqualificazione e gli eventi. Quella dei giorni scorsi non rimarrà una riunione solitaria, gli incontri si ripeteranno infatti una volta al mese per discutere il da farsi e analizzare la situazione.